The Koenig lancia il nuovissimo simulatore di colori per serramenti Zendov. Collegandosi al sito www.thekoenig.it è possibile utilizzare questo innovativo strumento di marketing dedicato a tutti i progettisti, agli showroom e agli utilizzatori finali. Cliccando nella sezione Simulatore di colori si potrà accedere ad un potente software di elaborazione di immagini grazie al quale potrete godere in anteprima dell'aspetto finale della vostra casa, rinnovata con i serramenti The Koenig. La vostra casa, i vostri serramenti, la vostra personalità. Cliccando sul configuratore di colori si aprirà una nuova finestra. Siete ora nella schermata principale. Per cominciare potete selezionare un'immagine preimpostata, oppure, attraverso il comando dedicato, caricare la fotografia della vostra abitazione. Scegliete ora un'immagine tra quelle suggerite. Per prima cosa selezionate un infisso esistente. Quindi scegliete la tipologia dal menu sulla destra. Ed il colore, tra la vasta scelta della collezione Deuchton. Infine potrete scegliere se e quale tipo di inglesina applicare e di quale colore. Tornando indietro con lo zoom sul menu a sinistra, potrete scegliere un nuovo infisso e cominciare di nuovo. Procedete nello stesso modo per tutti i serramenti che desidererete cambiare. Con pochi clic rinnoverete la vostra casa con un aspetto moderno ma sempre elegante. Terminate le modifiche, potrete salvarle, pubblicarle su Facebook, esportarle in PDF o stamparle. Esportate il vostro progetto in PDF e archiviatelo in una cartella. Avrete quindi a disposizione un'utilissima brochure personalizzata con le vostre scelte per la vostra casa. Le preziose indicazioni contenute sui colori, sulla qualità e sulla manutenzione dei vostri nuovi serramenti Zendo vi consentiranno di saperne di più oggi sulle porte e finestre di domani. Tornate ora al simulatore di colori. Attraverso il menu Il mio account sarà possibile salvare il progetto previa una veloce registrazione. Per accedere alla vostra area riservata dovrete inserire l'indirizzo mail e la password che avete indicato al momento della registrazione. Benvenuti alla vostra area riservata. Ora dovrete dare un nome al vostro progetto che verrà archiviato nel menu I miei progetti. Qui potrete modificarlo, eliminarlo o stamparlo. Se tornate adesso alla pagina iniziale attraverso il menu Benvenuto potrete caricare la foto della vostra casa attraverso il pulsante dedicato Caricare la mia foto. Scegliete la foto e quindi cominciate col selezionare un infisso tra quelli disponibili. Stabilite l'altezza muovendo il cursore e confermate. Trascinate la mascherina celeste nella posizione corretta e agendo sulle maniglie agli angoli definite esattamente la forma del serramento. Zoomando potrete correggere eventuali imprecisioni. potete anche regolare la profondità del muro. Come avete fatto nei precedenti passaggi scegliete adesso il colore che meglio si adatta alle vostre esigenze. Se vorrete potrete poi scegliere il tipo di inglesina. passate ora ad un serramento successivo e procedete come avete appena fatto. di un bel corso. Pag. Quindi si vedete il video. Pag. Dopo pochi clic, questo sarà il risultato finale. Salvate ora il progetto, né i miei progetti potrete richiamarli tutti e modificarli, eliminarli o stamparli a vostro piacere. Nel menu contatti potrete richiedere tutte le informazioni di cui avete bisogno, semplicemente compilando la scheda e inviarla ai nostri uffici. Grazie. 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 Grazie.